Musica Bentornati a Trombon con un nuovo Let's Blade di Amnesia Oggi avevo detto nel precedente video che avrei continuato con la serie House of Creep ma mi sono imbattuto, girovagando per il sito della Frictional in una nuova custom story, Dark Room che dai commenti risultava, insomma, molto apprezzato quindi ho deciso di fare un piccolo break con la serie House of Creep per giocare, provare, insomma, questa custom story Buono, cominciamo allora Ok Va bene Va, forza d'acqua Niente Niente Uomo nudo E niente Dov'è? Scatole 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 Ah Ok Prima chiave Bene Questa è in mezzo Ah Buono Allora Vediamo un po' Uh, mentre chiave Ma per aprire cosa? Tutto vuoto Allora, è sempre entrato qui Lì ci sono andato prima Da qui sono arrivato Però c'era un corridoglio magari Infatti Ecco Ok Va bene Vediamo un po' What the fuck No, 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 no Eh? Cosa? No Non Troll face No, 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 un momento però Calma, calma Sarà pure un troll face ma un mostro è No, un momento però Ragazzi, spiegatemi che cosa What the fuck Another troll face E poi la canzone sottofondo Che è Ma questo è no 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 trumarumarumarumarumarumarumarumarumarum no nooo... ma cos'è sta... no! no, via, via! no, è epico davvero, è... nooo... cos'è sta cavolata? beh, ci vuole un attimo staccarsi allo scago e spassarselo un po' vediamo questo cosa? non... stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano, mister c'è chermont, activate! No, il mostro Nienketh! No! Ma chi è il genio che mi ha dato questa custom story? Incredibile! Aia, dolore! Grazie! Ho bisogno! Eh? Eh? Non mi posso muovere? Cosa? No, no, no! Moment... 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 Io vorrei muovermi! Ok non ti si può muovere... Bene! Aspetta, questa musica mi è familiare... Ma è lo squalo! Lo squalo, no! No! No 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 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn WTF... WAUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA повтор реinigio 안돼 o Okey NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ютомannannannannannannannannnann No! No! Pei do bear! E tu staventosi tutti i mostri del mese messi assieme! No no! Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! No! No! Pei do bear! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Ok! Andiamo avanti a questo punto! Ehm... Chiuse! Eh? For... Un attimo! Forever Alone! No! Ma c'è il meme nel Forever Alone! No! Io adoro questa custom story! Ok! Questa è davvero epica ragazzi! È davvero... Epica! No! No! Me gusta! Me gusta! Me gusta! Oh yeah! Me gusta! Me gusta! Ok. E questo? No! Sup. Ok. Veramente genio, l'inventore. Sì che poi dal titolo ti annuncio a tutt'altro, insomma, Dark Room, è un qualcosa di... invece... No, è incredibile che quando l'ho vista la prima volta l'ho scaricato e ho detto, ma sarà stra... strafavoroso. Poi dopo dei commenti sotto dei giocatori, insomma. Ma, vabbè. Oh, magnifico! Strabello! Hello! Hello! Ah, ok. Bene. Quindi... No, 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 no! No, 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 no! Che cos'è questa roba? Jelly? Vuol dire marmellata? Jelly time, jelly time, jelly time, jelly time Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Guardate quel pirla laggiù Jelly time, jelly time, jelly time, jelly time Jelly time bro Jelly time, jelly time Ok, vabbè, però devo entrare in uscita qua C'è la porta lì che però è chiusa Che la chiave non c'è di dentro Cacchio quel bastardo Aspettate un attimo via No, 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 no Non venire qui su, non venire qui su per favore Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì Giusto Potrebbe essere su una delle sedie la chiave Lo cerchiamo sulle sedie Pide buona jelly, 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 bastardo Oh, no, 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 no Nel sedia, no, ne abbiamo controllato tutte Vengo a controllare tutte E' epica comunque davvero Fantastico Oh dai, la chiave di me c'è dov'è Oh dai, la chiave di me c'è dov'è E' lì che gira E' tutto tranquillo Eccola Sapevo io Ciao jelly time Jelly time Oh no 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 Dai Oh Guardi 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 Oh si No comunque Consettimelo di dirlo La più bella custom story che abbia mai giocato Il meme Troll face Troll lol Pedro bear Pedro bear At il momento forse è più epic Ok Wow Eh what the Ok Beh Questo let's play finisce qui Ci siamo fatti due risate E ci vediamo al prossimo let's play Quindi al prossimo video Ciao ragazzi